Aspetta, scusa non stavo registrando, non avevo schiacciato. Cosa pensate di Chiara Ferragni? L'ho sempre stimata perché appunto per me è sempre stata comunque una grandissima donna d'affari, molti la vedono semplicemente come un influencer che sponsorizza le cose, però secondo me è una grandissima donna d'affari. Questi affari secondo te sono sempre fatti nel modo giusto? Queste cose di beneficenza oltre lei succedono ogni giorno, non credo che lei sia stata appunto la singola a farlo. Secondo voi c'è invidia nei suoi confronti? Sì, assolutamente. Inevitabilmente. Comunque Chiara Ferragni che appunto è tra le più grandi ha proprio un grandissimo lavoro dietro, che non si parla solamente di sponsorizzare una borsa, una marca, ma c'è molto di più che noi non sappiamo ovviamente non vivendolo. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si genere qualcosa di costruttivo e di positivo. Grazie mille. Il video ti ha convinto? Vi ha convinto? Io anche ne ho parlato con mia madre per esempio, no? E lei sta più dalla parte della Meloni che dice che prendi soldi per sponsorizzare le cose così, ma non è un vero lavoro. Addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza, ma il cui prezzo serve solo a pagare cascè milionarie. Secondo voi è un modello femminile positivo? Sì, anche il fatto che il marito non sia magari invidioso di lei, non la screditi e non cerchi magari di sembrare meglio di lei, ma esatto, si sono sempre supportati. Nell'Italia c'è ancora comunque questo concetto di maschilismo, eccetera, invece lei è quella che diciamo rompe questo modello. Un modello che da molte persone, comunque la maggior parte degli italiani, non è ancora accettato, non è ancora capito. Chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto. Devolverò un milione di euro a Regina Margherita per sostenere le cuore dei bambini.